il grande terremoto di ieri mi ero dimenticato di dire che è accaduto mentre usciva il vulcano di Borsi oppure quel contadino accendeva nel bacio i scienziati dicono quello che vogliono per me le cose stanno così tanti studi che possono portare a delle supposizioni, a delle domande, a degli interrogativi ma a lungo andare anche qualche risposta la risposta mia è che ieri il grande terremoto è successo in concomitanza dell'uscita del vulcano di Borsi ovvero alle 7.40 l'orario dice qualcosa che che ne dicano i scienziati ecco qua il vulcano dove fico oggi 31 ottobre 2016 ore 7.40 7.35 7.45 cantarismo 8.45 8.45 15.45 16.45 Grazie.